Furkan Palali, fidanzata, ecco dove l'abbiamo già vista. Furkan Palali è diventato un volto noto del piccolo schermo grazie alla sua interpretazione impeccabile di Fikret Fekeli nella popolare sop turca Terra Amara. Un personaggio che ha subito una trasformazione straordinaria, da acerrimo nemico di Demir, Fikret si è evoluto in una delle persone più fidate della sua cerchia. L'entrata in scena del personaggio è avvenuta all'inizio della terza stagione, e da allora Fikret è diventato un beniamino del pubblico, guadagnandosi l'affetto dei telespettatori per la sua complessità e umanità. Ma dietro al successo di Fikret si cela il talento indiscusso di Furkan Palali, attore e modello turco nato nel 1987, che grazie al suo carisma ha conquistato fan in tutto il mondo. Tuttavia, oltre a essere un artista amato, Furkan ha recentemente svelato un dettaglio molto intimo della sua vita privata, il suo cuore è già impegnato. Durante un'intervista a Verissimo, l'attore ha confermato le voci che circolavano da tempo sui media turchi, rivelando la sua relazione sentimentale. Nell'intervista rilasciata a Silvia Tofanin, Furkan ha parlato apertamente della sua relazione, ammettendo che la sua compagna comprende le sfide legate alla sua professione, anche se il lavoro spesso crea complicazioni a causa degli impegni serrati. Fortunatamente, lei riesce a capirlo, poiché condivide la stessa passione per la recitazione. Infatti, la fortunata che ha rubato il cuore della star di Terra Amara è Ezgi Euboglu, attrice e modella di successo. Nata nel 1988, Ezgi è conosciuta principalmente per il suo ruolo di Ivy Geatun nella serie storica Magnificent Century. Laureata in Economia e con un master in recitazione, Ezgi non è solo una talentuosa attrice, ma è anche una figura influente sui social media, dove vanta oltre 1,4 milioni di follower su Instagram. Tuttavia, nonostante la loro popolarità, la coppia ha scelto di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori. Al momento, non ci sono foto di loro insieme sui rispettivi profili social. Ezgi Euboglu è stata precedentemente sposata con l'attore Canil Dirim, ma la sua moglie è la loro relazione si è conclusa nel 2019. Ora, la splendida attrice ha trovato la felicità accanto a Furkan, e i due sembrano vivere una relazione stabile e serena, seppur discreta. La storia tra Furkan Palali e Ezgi Euboglu è la prova che, anche nel mondo frenetico dello spettacolo, è possibile trovare equilibrio e comprensione reciproca. La loro relazione, nata da pochi mesi, ha già catturato l'attenzione dei fan, ma entrambi sembrano preferire tenere la loro vita privata lontana dalle luci della rivalta, pur continuando a brillare sullo schermo. Cosa ne pensi di questa storia d'amore tra due delle star più amate della Turchia? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie! 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 Grazie!